Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi torniamo a parlare di giochi di ruolo e vi voglio presentare Mutant Year Zero, un gioco che avrete visto è uscito circa un anno fa, anche per computer, quello dove c'era un gioco strano che non conoscevo, che all'inizio, se vi ricordate, ci sono quel personaggio con la testa a cinghiale, quello con la testa a papero, che poi, giuro, non so, forse l'hanno presa da un'espansione perché nel manuale non ci sono, creature del genere, e quella ragazza all'umana. Ed è un gioco post-apocalittico veramente molto interessante della Modifius e ovviamente l'editore è la Free League, la Free Aligan, quelli di Alien, di Simbarome e tanti altri giochi. E l'ho richiesto, intanto voglio ringraziare di cuore la Free Aligan, veramente ragazzi, grazie, non ho fatto in tempo a dirgli mi mandate magari qualche prodotto da recensire, ma hanno mandato un pacco pieno zeppo di manuali di Corioli, e tra l'altro c'era dentro anche Mutant Year Zero che lo volevo, quindi grazie di cuore, è veramente un onore collaborare con voi, grazie ragazzi, grazie. Ora poi vi faccio vedere un pochino il manuale, comunque, il sistema delle regole di gioco è lo stesso di Alien, andatevi a vedere il video che ho fatto alla partita, alla giocata di ruolo con Manuel e gli altri ragazzi, si tirano tot di 6 per l'abilità che abbiamo, la caratteristica chiave legata all'abilità che ne so sparare con armi da fuoco va su agilità, vi faccio l'esempio, più il bonus che dà anche l'oggetto che stiamo utilizzando. Si tirano tot dadi, 5, 6, 10 dadi, e per ogni 6 che esce è un successo. Di solito basta un 6 per fare un successo, almeno che il master non dica altrimenti, ma nel 99,9% dei casi è così, invece dove tutti quanti i risultati che non daranno un 6 sul dado da 6 saranno sempre un fallimento, quindi regolamente è quello di Alien, non cambia nulla. L'ambientazione mi è garbata veramente da morire, da morire, ora ve la faccio un po' veloce, e c'è anche una cosa bella nel manuale, che qualcuno potrebbe vederla brutta, ma io la trovo bella, che il manuale volutamente non dà troppe informazioni, ci dà esempi, perché questa ambientazione qui ve la costruite voi, cioè io la potrei inventare anche a Livorno, in una Livorno apocalittica, in una città apocalittica dell'America, della Francia, dove volete voi, e ce le metto io in edifici, cioè magari ci metto una scuola distrutta, un centro commerciale, una stazione dei pompieri, un aeroporto distrutto, quindi il gioco ti dice quali elementi scenici stanno meglio, quali edifici in una data ambientazione, però ti fa vari esempi, paludi, che ne so, cose bosche e cose varie, però non ha delle vere e proprie ambientazioni descritte qua dentro, ci sono due esempi collegati a un'avventura, però l'ambientazione ve la dovete creare voi, tanto un mondo apocalittico completamente distrutto, dove girerete, girerete, ci sarà sempre e soltanto distruzione e morte. Faccio una premessa, poi vi mostro il manuale, una cosa che io lo dico, mi espongo, onestissimo come sempre, a me Fallout non è mai piaciuto come ambientazione, però ripeto una cosa mia personale, io preferisco Mad Max perché in un'ambientazione post-apocalittica, se te hai della tecnologia che è cento volte più avanzata rispetto a quella che ha distrutto il mondo, ma che apocalisse è? Cioè su Fallout alla fin fine armature potenziate, abbiamo visto robottoni giganti che andavano in giro a distruggere la minaccia rossa comunista, armi laser, alieni, cioè Fallout, la tecnologia è andata molto più avanti rispetto a quella delle bombe atomiche, delle testate nucleari che hanno distrutto il mondo, Mad Max no, perché Mad Max abbiamo visto una ambientazione dove si fa la lotta per il cibo, soprattutto per l'acqua decontaminata, per la benzina, la benzina, non al nuovo oro, ancora di più è il valore più grande perché è quello che muove i veicoli, e nel Wasteland senza un veicolo moriresti anche scaldato dal sole e dalle radiazioni, e quindi preferisco di più Mad Max, ma questa la preferisco ancora di più a Mad Max perché Fallout è tipo 100-200 anni dopo, vi faccio l'esempio, risvegliati dal Volt, Mad Max è poco dopo le bombe atomiche perché vi ricordate Mad Max ha vissuto nel mondo precedente con la sua famiglia e poi era un agente di polizia, quindi diciamo Mad Max è tipo 15 anni dopo, 20 anni dopo, una cosa del genere, forse anche meno. Questo gioco qui invece sono centinaia e centinaia di anni dopo, cioè del mondo di un tempo è rimasta soltanto l'ombra, si vedono questi palazzi, grattacieli, tutti quanti magari coperti da arrampicanti e cose del genere. L'essere umano non esiste più, gli esseri umani sono tutti quanti mutanti, in questo gioco siete tutti mutanti, dal primo all'ultimo la razza umana, almeno nel gioco di base, l'essere umano non esiste più, siete tutti quanti mutanti che vivete in delle arche, quindi dei santuari protetti, e difficilmente, a parte per qualche missione da andare a prendere acqua e cibo, vi sposterete nel wasteland all'esterno, che in questo gioco viene chiamato la zona. La zona è quella all'esterno, usciti veramente dalla vostra arca, che potrebbe essere un aeroplano, una portere, un vecchio ospedale, un bunker sotterraneo, usciti dalla vostra arca, vi troverete nella zona che è una zona completamente inesplorata, e questa è la cosa bella del gioco. E ricollegandomi al discorso che facevo prima, apocalittico, questo è un mondo completamente distrutto. E fate conto che in questo gioco ci sono le reliquie, che sono oggetti di uso comune, o non comunque bellico-militare, del mondo precedente, di generazioni passate. Andate e dimenticate, in questo gioco trovare un tostapane, è una reliquia per chi vive in questo mondo. Trovare una K-47, un Kalashnikov, ancora funzionante, è un'arma magica. Addirittura trovare una macchina che, girate le chiavi, si mette in moto, magari con del combustibile particolare, tutto quello che volete. Si mette in moto e funzioni ancora di far ripartire un camion. È una reliquia. Manca semplicemente trovare, sembra un po' Waterworld, un fumetto dell'epoca, o anche, ve l'ho detto, uno stereo. Uno stereo che ancora con delle batterie, magari, boh, non si sa come ancora funzionanti. Queste sono tutte reliquie del mondo passato. La cosa bella è che voi andate a vivere in un mondo che non conoscete. Quindi dovrete sempre giocare, interpretare, fare dei tiri. Per esempio trovate una pistola. Non sapete cos'è. Oppure semplicemente, ve l'ho detto, trovate uno stereo. Voi non sapete cos'è quell'oggetto lì. Perché il mondo che conosce... Che no, che conoscevate, che nessuno conosce, è andato distrutto centinaia di anni prima. Quindi gli ultimi umani che si ricordavano un po' la storia del mondo se la sono completamente dimenticata. E ora siete talmente tanto centinaia di anni avanti nel tempo che di quel mondo che vedete, anche quel grattacello, perché questi umani costruivano questi grattacelli alti, magari 50 piani per inizieppi di vetrate? Cosa rappresentavano? Perché? Cioè, era tra l'altro una zona nemmeno tanto difendibile perché non c'erano palizzate e muri. E quindi un'ambientazione dove voi interpretate dei mutanti alla scoperta di un nuovo mondo. Siete, paradossalmente parlando, i primi abitanti del pianeta Terra che devono andare a esplorare questo mondo. Pianeta, ovviamente, è un mondo pieno di conflitti, pieno di avversità, addirittura piogge radattive, cose del genere. Un mondo veramente cattivo che, messo al piede, creature mutanti come siete voi, ma anche mostri mutanti, il primo piede messo fuori dall'arca, se non sarete abbastanza bravi da sopravvivere, sarà morte certa. E vi faccio vedere un po'. Una mappa di base del gioco, però ragazzi non vi potevano fare la mappa di tutto il mondo. Questa è una mappa divisa, vedete, in quadrettini, e fatevela voi a mano, tanto fa una mappa del genere, scrivendoci, ne so, scuola, città, antica diga e cose del genere, penso vi ci vorrà meno di mezz'ora di lavoro, una ventina di minuti, e questo ci fa vedere un po' come funziona. E poi il manuale è diviso in sezioni. Ci sono le sezioni per le mutazioni, la sezione per l'arca, perché in questo gioco vi dovrete anche costruire un'arca. Vi ricordate in Coriolì, che tra l'altro anche Coriolì ha lo stesso regolamento, vi dovevate all'inizio a costruire la vostra nave spaziale? Ecco, in questo gioco invece vi dovrete costruire la vostra arca. Quindi l'arca, il santuario da cui i vostri personaggi inizieranno la propria avventura, e che dovrete difendere dai riders e altri nemici del genere, sarà la vostra arca che la dovrete costruire, e è presente nel capitolo 7 con tutte quante le regole. Pagine principali che vi descrivono un po' l'ambientazione, però a grandi righe ragazzi, vi descrivono un po', vi lasciano nel dubbio di come si sia arrivati alla fine del mondo. Di solito dentro le arche c'è sempre un elder, che è il tipo il saggio del posto, che se interrogato vi verrà sempre a dire, più o meno com'è andata la situazione, anche perché lui non c'era. Magari sono cose che ogni elder si tramanda vocalmente da padre a figlio, e quindi è una cosa che va avanti da generazioni. Però nessuno sa veramente come sia finito il mondo, e il gioco nella descrizione ve lo fa capire. Sì, si pensa che sia stato per una grande guerra, bombe atomiche e cose del genere, però in questa ambientazione anche parlare di bombe atomiche. Cos'è una bomba atomica? Cioè nessuno di voi lo sa, capito? Perché la vecchia tecnologia è andata del tutto perduta. Si riparte da uno stadio primitivo, è questo che io adoro di Mutant, non si parte con armi laser e cose strane. Qui si parte con mutazioni, e si parte con equipaggiamenti scadenti e schifosi. Chiunque di voi avrà magari una pistola e un fucile. Però quella pistola e quel fucile fanno veramente schifo. È roba rudimentale. Infatti tutte, tutte, dall'A alla Z, tutte le armi di questo gioco, colpo, ricarica, colpo, ricarica. Tipo il bolt action. Sono tutte quante a colpo singolo. Colpo e ricarica. Armi a raffica non ci sono più. L'unica armi a raffica che potrete trovare nel gioco saranno reliquie, tipo un M16 del vecchio mondo, ancora funzionante, e cose del genere. E nel gioco non c'è moneta, c'è il baratto. Ed è bellissimo, la parte finale del manuale ci fa vedere, che ne so, ho trovato una padella, valore 1. Ho trovato, che ne so, ah, la moneta del gioco sono i bossoli di proiettile, la cosa più importante. Però a parte i bossoli di proiettile, sono nel baratto. Un proiettile vale 1. Quindi nel caso io porti due proiettili, che sono la cosa più rara in assoluta a trovare, magari potrei prendere, che ne so, una borraccia d'acqua che costa 2. Quindi è tutto quanto a scambio, a baratto. Ed è una cosa veramente figa dalla madonna. Disegni, molto belli, che vi devo dire la verità, i disegni che ci sono qui sopra ricordano molto lo stile di Kirkman, eh, di The Walking Dead. E quindi mi piacciono veramente da morire. Creazione del personaggio. Come vi ho detto, dovrete tirare le caratteristiche del personaggio, che le caratteristiche principali sono 4. All'inizio dovrete distribuirci 14 punti e dovranno avere un valore minimo di 2 e massimo di 4, senza poter superare il 4. Poi dopo sì, ma di partenza no. Una sola delle 4 caratteristiche potrà avere un valore di 5, a seconda dell'archetipo e della classe che avrete scelto. E in più ci avete punti da spendere nell'abilità. Ricordatevi che all'inizio del gioco il vostro personaggio prenderà una mutazione che sarà casuale e da tirare su una tabella. Più ovviamente ci sono i 3 talenti per ciascuna classe e voi ogni volta che passerete di livello potete scegliere uno nuovo. Quindi uno di partenza, più gli altri due successivamente, e una mutazione, più altre mutazioni quando passerete di livello. La scheda del personaggio, come vedete, è semplicissima. Molto, molto, molto semplice. Vi fa vedere, insomma, gli equipaggiamenti che avete. Ci potete anche scrivere la storia scoperta fino a quel momento, le note e quant'altro. Ricordatevi che ci sono schede più grandi da stampare a fine del manuale e poi sono sul sito della Fria Ligan. Comunque, i 4 attributi, che vi ho detto, più i pallini accanto che servono per segnare i punti ferita. Quindi se avete, che ne so, forza 4, potete subire 4 ferite. Se avete forza 5, ne potete subire 5. Quando tutti quanti i pallini saranno pieni, a seconda della vostra caratteristica, il vostro personaggio sarà morto. Poi, abilità speciali, mutazioni, equipaggiamento, radiazioni. Perché in questo gioco tutto ha radiazioni, da un livello di 1 a un massimo di 5. Che ne so, un livello 1, un minimo, zona libera dalle radiazioni. Livello 2, il vostro personaggio prenderà una radiazione al giorno. Fino ad arrivare a un livello 5, che prenderete un punto radiazione al minuto. Quindi dopo tipo 10 minuti in quella zona sarete morti. E poi le abilità, che sono le stesse per tutti i personaggi. Le abilità sono poche nei regolamenti, l'avete visto anche di Corioli. Queste sono le abilità, più le zone per i vari talenti e tutte le altre cose, rot, quindi anche, come vi ho detto, le radiazioni e punti esperienza in fondo, che una volta riempiti tutti quanti passerete di livello, potete mettere nuove caratteristiche ed altre cose. E poi arriviamo alle pagine dei personaggi. Vedete le classi, che sono le enforze. E la cosa bella è che la scheda, la pagina di ciascuna classe, vi dà delle linee guida. Cioè non è che vi dice cosa dovete fare, come spendere i punti. I personaggi sono tutti uguali, solo magari vi dà l'apparence, l'aspetto, ok? Vi dà delle linee guida. L'unica cosa che vi dice è quali sono i talenti, ok? Quindi, i tre talenti che ha il personaggio e che sono descritti più avanti, la classe, sono questi, dell'enforzer, che è un picchiatore, un combattente, più che altro da corpo a corpo. Equipaggiamento di partenza, vi dà anche un equipaggiamento tot munizioni. Le munizioni, ragazzi, in questo gioco sono contate. Non vi aspettate di avere 100 munizioni e sparare tutta l'avventura. Se vi va bene ne avrete 4 o 5 in questo gioco, perché le munizioni sono la moneta. Quindi è come in un fantasy da dire è difficile trovare le monete d'oro o di platino. Qui uguali i proiettili. Quindi, se dovete fare un combattimento, cercate sempre di andare di sotterfuso, pugnalare alle spalle, uccidere in corpo a corpo, perché i proiettili sono contatti. Lo stesso regolamento vi dice una volta finiti i proiettili, il Dungeon Master vi deve far sputare sangue prima di trovare qualsiasi altra risorsa. Trovare i proiettili in questa ambientazione è come trovare la benzina in Mad Max. Impossibile. Finiti i proiettili che ci avete di partenza, magari starete per due sessioni senza sparare. Abilità. Se vi sembra tipo un licantro o qualche mutazione genetica strana. Comunque, abilità del personaggio che sono quelle che vi ho fatto vedere più che qui sono descritte e dovete distribuirci punti. In questo gioco, guardate, vi prendo un D6 per farvelo vedere. In questo gioco la regola è sempre la stessa. Ah, se vi interessa, sul sito della Freya Ligan ci sono i dadi personalizzati. magari se volete fare un acquisto e spenderci quei 15 euro o più prendeteli che sono bellini da morire. La regola è sempre la stessa. Un 1 nel dado è un possibile fallimento nel caso... No, è un possibile, è un fallimento solo nel caso di un rilancio. Se io un tiro non mi va bene e voglio fare un rilancio tutti quanti gli 1 saranno sempre un fallimento critico. Mentre invece nel tiro di una prova normale l'1 è un risultato come un altro che non vale niente. L'unico risultato che vale nei regolamenti della Modifius è il 6. Quindi il 6 è un colpito. Se voi tirate 10 dadi e su 10 dadi fate un 6 automaticamente l'azione è andata a compimento. Non servono di più. Per ogni 6 aggiuntivo che farete avrete dei bonus particolari. Che ne so, in un'azione di forza non avete aperto la porta ma l'avete scardinata. In un'azione di attaccare a distanza con un'arma da fuoco non solo avete colpito ma farete un danno maggiore o magari uno stun avrete, che ne so, buttato per terra e capacitato il vostro avversario. E i tiri di dado sono sempre dadi per le caratteristiche quindi, che ne so, agilità 3. Dadi per l'abilità che ne so, uso delle armi da fuoco ce ne ho altri 3. E dadi invece per i bonus che vi daranno gli equipaggiamenti perché anche gli equipaggiamenti tipo, che ne so, un fucile scadente vi da un più 1. Quindi cosa vuol dire? Quando tirerò i 3 dadi tirerò i 3 dadi della caratteristica. I 3 dadi dell'abilità e il dado finale che mi dà l'oggetto. Quindi in tutto andrò a tirare 3 più 3 più 1 7 dadi. Ricordatevi che i dadi in questo gioco vengono divisi perché quando fate una prova di rilancio il danno causato dall'1 che vi ho detto precedentemente andrà abbinato al tipo di azione che avete fatto. Se provo a sfondare una porta cos'è? Un'azione di forza. Tiro risultato schifoso nemmeno un 6. Ritiro sfondo la porta però è venuto sia 6 che altro però in quel tiro è venuto anche un 1. Quindi vuol dire che mi sono fatto un danno. Sì ho distrutto la porta ma mi sono fatto un taglio sulla mano e quindi andrò a segnare un punto ferita sulla forza perché vi ho appena detto che era un'azione di forza. In un'azione di sparare quindi uso l'arma rivado a fare un check di tiro sull'abilità sull'agilità e sull'arma l'arma cosa mi dà? Bonus più 1 bonus il bonus che vi dà l'arma è la vita dell'arma se un'arma vi dà più 1 vuol dire che ha 1 di vita se vi dà più 2 vuol dire che ha 2 di vita quindi se io vado a fare un tiro non mi piace ritiro il dado e in quel tiro dovesse uscire 1 più 1 come vi ho fatto vedere qui vorrà dire che l'arma si è danneggiata ha perso il bonus di più 1 che va a 0 e quando un'arma arriva a 0 è inutilizzabile non è ancora distrutta però comunque non potrete più sparare farci fuoco e cose del genere e queste sono le skill procede il manuale con la lista delle mutazioni questa qui è la lista prendete tirate il dado da 66 che sono due dadi da 6 il primo è le decine e il secondo sono i numeri andate a tirare e vedete cosa viene fuori a seconda di quello che viene fuori mi verrà che ne so io faccio un tiro faccio 2 e 3 quindi ho fatto 23 è venuto fuori human plant quindi pianta umana sarà sicuramente qualcosa legato alla natura magari no mi darà un'abilità speciale per bloccare un nemico o cose del genere vi ricordo soltanto che quando usate una mutazione il colpo va sempre a segno quindi ad esempio uso la mutazione per volare voli uso la mutazione per sputare fuoco sul nemico sputi fuoco va sempre 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 a compimento senza tirare nessun dado però se durante una prova di mutazione che avete tot punti ve lo dice il manuale quanti ne avete di solito è un punto per ogni mutazione se il dado devo comunque fare un tiro e se dovesse venire fuori uno la mutazione è sempre colpita anche se faccio uno ho colpito il mio avversario l'ho ucciso ho fatto quello che devo fare però mi si ritorcerà contro quindi magari durante un volo magari sono riuscito a volare però ho subito un danno durante il volo o sputando fuoco magari ho colpito il mio bersaglio però mi sono anche io bruciato io nell'intento quindi comunque il fallimento c'è però il colpo andrà sempre a segno e poi ci sono tutte quante le altre regole come vi dicevo prima per crearvi l'arca che è la cosa più importante anzi forse metà del manuale è proprio creato su come costruire l'arca infatti vedete che anche qui c'è un esempio vi fa vedere un'arca costruita sul relitto di una nave da crociera e vi fa vedere un po' come è disposta la stanza dell'herder la stanza delle munizioni e quant'altro ricordatevi che l'arca è il centro del vostro mondo voi state vivendo non per tanto per esplorare il mondo quanto per far sopravvivere l'arca perché se l'arca dovesse cadere senza acqua senza scibo e cose del genere il vostro mondo andrebbe perso in questa ambientazione ci sono centinaia di altre arche ma voi non lo sapete è questo che è l'odore di questa ambientazione voi del mondo dove siete non sapete niente voi la prima avventura che giocherete invece di essere fate conto di aver preso un equipaggio e averlo portato su venere a esplorare un mondo completamente nuovo voi non sapete niente e il dungeon master dovrebbe descrivere minuziosamente tutto ricordatevi che della tecnologia di un tempo voi non sapete nulla cioè quindi evitate di parlare fra giocatori al tempo avevano l'M16 oppure le testate atomiche oppure avevano gli aeroplani addirittura gli aeroplani in questa ambientazione li chiamano gli uccelli di ferro cioè che usavano nel passato quando trovano relitti di una nave o di cose del genere le prendono come cose magiche le viatane cose strane ed è un'ambientazione veramente mi garba da morire cioè è riscoprire un mondo da zero siete i primi occhi che vanno a esplorare questo mondo distrutto ed è ragazzi veramente una figata assurda comunque ragazzi in conclusione è un gdr della madonna per ora non è ancora stato tradotto ma io penso non voglio dire una cavolata però penso che la weird edizioni che lavora con la frea ligan penso che o qualcun altro lo porterà in Italia di sicuro ed ha già diverse espansioni se voi andate sul sito c'è un casino di espansioni c'è addirittura ambientate sott'acqua perché anche sotto i mari scienziati quando il mondo è stato distrutto dalle testate atomiche dove ti può salvare sulla terra o sott'acqua proprio andando che ne so in fondo migliaia di metri di profondità chilometri e chilometri tipo fossa delle marianne e cose del genere o se no nello spazio infatti è un'ambientazione sia sott'acqua che spaziale più addirittura ci sono città completamente governate da robot robot che erano stati messi in funzione per salvaguardare il mondo non sono i terminator che ammazzano la gente sì per quanta volta anche loro impazziscono però erano più delle specie di guardiane di questo mondo distrutto è un'ambientazione ricchissima bella da morire e al momento sono curioso di provare l'ultima bomba che uscirà quest'anno da Luca Comics e penso e spero di portarvelo quanto prima però attualmente ad ora ovviamente aspetto di valutare quando avrò altri prodotti in mano ad ora è il mio GDR apocalittico preferito e gli do voto 10 su 10 perché non mi voglio sbilanciare nemmeno una virgola di più 10 su 10 perché l'ambientazione non tanto perfetta perché magari a me piace a te ti fa schifo però è quello che cercavo io questo è quello che cercavo io personalmente dall'ambientazione del genere cioè devi essere una persona che va a giro nel nuovo mondo e non sa niente di quel mondo lì perché anche Mad Max sanno tutto sanno che c'era gli Stati Uniti d'America sanno che c'era qui non c'è nemmeno più in che terra sei cioè quella era l'Inghilterra quella era l'America quella l'Europa l'Italia non sai nulla cioè ve l'ho detto anche semplicemente vedere un aereo distrutto dove magari qualcuno dentro ci ha fatto un'arca cos'è questo oggetto boh non lo so era l'uccello di ferro che l'Eller mi ha detto che gli antenati usavano per spostarsi nel cielo ma sono magie perché nessuno potrebbe mai muoversi nel cielo con una cosa del genere capito le mutazioni sono normali cioè vedere uno con le ali che spicca al volo è la normalità però vedere questi elementi qui è veramente rarissimo in più ci sono i veicoli nel gioco eh sgangherati tipo quelli di Mad Max cioè distrutti dimenticatevi una Pontiac con macchine del genere ci sono i veicoli pezzi messi insieme con un motore boh non lo so nemmeno io a vapore messo lì e si muovono ma sono 14 veramente schivosi e tra l'altro ce l'ha soltanto un clan ce l'hanno soltanto gli Eldrivers che sono praticamente i riders di questo gioco per citare Fallout e ce l'hanno solo loro e sanno come farli funzionare quindi la tecnologia in questo mondo veramente è tornata all'età della pietra e siete i nuovi esploratori di questa ambientazione quindi voto 10 su 10 veramente bello da morire ringrazio la Freya Ligan per avermi dato il manuale e la possibilità ovviamente di recensirlo spero che la collaborazione andrà avanti e ragazzi assolutamente cercate un gioco apocalittico preso tanto se avete fatto il videogioco che è uscito su Steam la conoscete già l'ambientazione è veramente spettacolare fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti il link dove acquistarlo link per tutti i nostri social e lasciate un commento ciao ragazzi alla prossima